la scuola buon pastore bravetta di Roma di età piccolissima la materna venite avanti piano senza correre la danza che presenteranno è una danza polinesiana potete ammirare le ghirlande di fiori e i remi perché faremo un viaggio sulle canoe per trovare la nuova terra di Tahiti attenzione pronti con la musica via 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 remi a me una danza francese la danza dei conigli attenzione pronti con la musica via attenzione pronti con la musica via attenzione pronti con la musica via